Va bene, allora riprendendo questo esercizio, mi sono ricordato di una cosa che non ho detto prima a proposito delle precondizioni, perché poi è una domanda frequente che salta in mente quando poi voi fate gli esercizi. C'è un'altra precondizione che è sempre presente e quindi la lasciamo sempre sottintesa, che è il fatto che l'utente sia registrato e riconosciuto dal sistema. Perché è ovvio che in ogni caso d'uso del mondo io ho un utente che assume un certo ruolo, in questo caso l'attore primario è un partecipante e quindi vuol dire che questa persona è registrata nel sistema, quindi in passato si è registrata e ha fatto il login e essendo entrata, avendo fatto il login è stato riconosciuto col ruolo di partecipante. E quindi il sistema gli permette di fare questa cosa. Quindi la precondizione c'è sempre che questa persona sia iscritta e sia iscritta con le credenziali giuste per poter giocare questo ruolo. Ok? È quello che noi diciamo chiamandolo partecipante. Cioè nel momento stesso in cui diciamo che questo è un attore, stiamo dicendo che c'è un insieme di persone che sono registrate nel sistema e hanno quel privilegio, possono assumere quel ruolo. quindi se io non ti avessi riconosciuto che hai fatto il login e che hai i diritti di poter fare questa operazione non ti chiamerei partecipante, ti chiamerei utente generico se non ti ho riconosciuto. Ma se ti chiamo partecipante, se ti chiamo giudice, se ti chiamo organizzatore è perché tu hai fatto il login e ti ho riconosciuto con quei privilegi. Ok? Non devo dirlo ogni volta. È proprio ciò che distingue un attore dall'altro. Il fatto che il sistema non è che sono un partecipante perché lo dico io. Sono un partecipante perché il sistema ha riconosciuto nei dati che mi riguardano che io posso agire come partecipante e quindi avere accesso a quei casi d'uso. Quindi è il sistema che l'ha già verificato. Quindi nel momento in cui mettiamo partecipanti, qui come attore o partecipante qui come attore primario, stiamo anche dicendo che deve essere verificata la precondizione che l'utente è iscritto alla piattaforma ed è riconosciuto, ha fatto login ed è stato riconosciuto come partecipante. Questo qui come l'ho scritto lo cancello perché è vero che tutte queste cose devono succedere. Noi le abbiamo dette in modo molto più sintetico dicendo attore due punti partecipante. Questo vuole anche dire che io parto col mio scenario avendo l'utente in gergo già loggato sulla piattaforma. Cioè il passo 1 non è l'utente inserisce il login, la password per entrare nella piattaforma. Non è neanche l'utente si registra inserendo i propri dati. No, queste cose ci sono già. So già che lui è partecipante, è già stato registrato, è già stato riconosciuto. Una volta che sono dentro cosa faccio? Poi ci sarà da qualche parte, noi in questo esempio non abbiamo messo, un caso d'uso l'utente fa il login che gli permette di passare da utente normale a utente registrato che poi sarà partecipante o altro. Ma è un caso d'uso separato. Non è che ogni volta che faccio una cosa devo rifare il login da capo. Ok? Se sono dentro attivo le varie funzioni e come primo passo scelgo quale funzione fare. Ok? Quindi tutta questa parte qua che so che poi quando fate gli esercizi vi preoccupa sempre molto, sempre i primi 3-4 passi l'utente ogni volta fa il login, si registra, manda la mail, registrazione, eccetera. No. Quando dico che un attore ha un certo ruolo vuol dire che ho già fatto tutti i passi precedenti per poter riconoscere che lui ha quel ruolo. Fine. Ok. Questa è la precisazione che mi ero dimenticato di dire prima. Adesso andiamo invece a parlare delle estensioni. Le estensioni sono tutto ciò che può capitare nello sviluppo di questo caso d'uso e che non ricadono nello scenario principale di successo. Come la visualizziamo la situazione? Ma la possiamo visualizzare con questo disegno che è brutto e non so se è facile da capire ma adesso lo vediamo. Noi abbiamo l'obiettivo da raggiungere che era su in alto e abbiamo uno scenario principale di successo che è rappresentato da questa gamba qua sulla sinistra che è fatto di tanti passi. Passo 1, passo 2, passo 3. Questa S sta a indicare che il singolo passo ha avuto successo, esito positivo. Quindi lo scenario principale di successo è in questo disegno, è un scenario fatto da 3 passi, 1, 2, 3, che se tutti e 3 hanno successo arrivo alla conclusione con successo del caso d'uso. Ci sono tanti percorsi alternativi, per cui è possibile che il primo passo abbia successo, il secondo passo abbia successo, ma per qualche motivo il passo 3 fallisca. Ma nonostante fallisce magari perché ho sbagliato a scrivere un dato, perché ho dimenticato un dato nella casella e quindi nel passo successivo il 4 lo recupero. E quindi ho un percorso che contiene al suo interno alcuni fallimenti, ma non vediamolo come grosso questa parola, ci vediamo anche anomalie, deviazioni dal percorso principale, ma ciò nonostante si sviluppa lo scenario in un modo un po' diverso, un po' più complicato, ma ciò nonostante arriva al successo. Quindi permette di concludere con successo il caso d'uso. Poi invece ci sono altri casi in cui le anomalie che si verificano, questo è un caso terribile in cui ogni passo gli è andata male, ma non è detto che sia così, e quindi a un certo punto il caso d'uso non è più recuperabile e termina con fallimento. Quindi il caso d'uso termina sempre, non è che si può rimanere lì all'infinito. A volte termina con successo nel modo migliore, scendo giù direttamente allo scenario principale di successo, a volte termina con successo dopo qualche peripezia, a volte termina con fallimento chiaramente dopo qualche peripezia. Quindi per ogni anomalia possibile dobbiamo chiederci qual è l'azione successiva e se l'azione successiva può portare ancora successo e noi dobbiamo fare in modo il più possibile di riuscire a rimanere sulla strada del successo, che l'utente se ci sono delle anomalie, degli errori, possono essere recuperati all'interno del caso d'uso e invece quando proprio non si può fare si va in fallimento. Quindi è come se nel caso d'uso principale ci fosse scritto il caso d'uso termina con successo. Questo nel caso possiamo anche non scriverlo ogni volta, è implicito che essendo questo lo scenario principale di successo, avendo compiuto l'ultima azione il caso d'uso è terminato e è terminato con successo. Però in tutti gli altri casi ricordiamoci di scrivere se il caso d'uso a un certo punto termina, se termina con successo o con fallimento. Con successo significa che uno l'obiettivo dell'utente è stato raggiunto e quindi le garanzie di successo si applicano. Siamo sicuri che le abbiamo raggiunte. Se no ragioniamo sulle estensioni. Le estensioni anche qui sono, le rappresentiamo come un elenco puntato in cui dobbiamo chiederci quali sono tutte le cose che possono o andare storto o anche più semplicemente farci deviare dal percorso che abbiamo appena descritto. Quindi cammin diversi che ti portano comunque a successo. Oppure comportamento imprevisto, sbagliato, errato, anomalo dell'utente. Oppure, secondo due, punto. Terzo punto, oppure l'utente che si addormenta, non fa nulla, non risponde entro un certo tempo. Cosa devo fare? Allora, se sono su Facebook, niente, chi se frega. Se sono davanti a un banco ma dopo uno, due, tre minuti di inattività dell'utente è meglio chiudere tutto. Chiudere la sessione, chiudere l'interazione, per sicurezza. Oppure dati inseriti all'utente che non sono validi, in qualche modo. Validi in senso ampio, può dipendere da mille fattori, perché il dato manca, perché è errato, perché non c'è abbastanza soldi sul conto e quindi quel valore che ho richiesto non è valido, no? Eccetera. E queste sono tutte anomalie normali, che fanno parte delle normali interazioni. Scambio dati, scambio informazioni, alcuni di questi vengono controllati, alcuni sono corretti, altri non sono corretti. E poi ci sono i problemi invece più gravi, cioè il sistema. Diciamo, finora avevamo un'interazione sana tra l'utente e il sistema, che alcune volte doveva recuperare o correggere delle informazioni non perfette. Ok? Poi ci sono dei casi in cui il sistema non funziona correttamente. ha dei problemi, è una macchina, può avere dei problemi. Può avere dei problemi in due modi. O problemi che so che si possono verificare, è frequente che si possono verificare, e quindi cerco di gestirli in qualche modo. Oppure problemi proprio più gravi, no? inattesi molto improbabili, più o meno catastrofici, di cui a quel punto non posso fare più nessun tentativo di recuperare nulla, se non garantire le garanzie minime, no? In caso di non successo del caso d'uso. Allora, questi ci interessano, da un lato ci interessano un pochino meno, questi casi catastrofici, perché se dovessi creare un sistema reale, sì, devo pensare anche a quelli. Ma nel nostro caso, che ci occupiamo più dell'aspetto funzionale, questo non ci interessa così tanto. Anche perché i guasti sono, cioè i malfunzionamenti del sistema, sono anche indipendenti, tante volte, dal caso d'uso che sto svolgendo. C'è un esempio semplice. Manca la connessione internet. A un certo punto sto facendo qualche cosa su un sito, e internet si sgancia, il wifi del poli non va più, come succede sempre, eccetera. Però quello non è specifico di un certo caso d'uso. Cioè il sistema mi offre mille casi d'uso diversi, in ciascuno di questi, in qualunque momento, può capitare che perdiamo la rete. Allora immaginate che in ogni singolo passo, di ogni singolo caso d'uso, dover gestire l'eccezione, cosa succede se in questo punto ben specifico perdo la rete. non ci passa più. Allora in questi casi, di solito i malfunzionamenti vengono gestiti a parte, con una risposta del sistema che è uguale per tutti i casi d'uso. Quindi non stiamo ad andare a ripetere in ogni singolo caso d'uso. Se il sistema manderà un messaggio d'errore, il tipo, la connessione è mancata e quindi riprova più tardi, qualcosa del genere. Ma è uguale per tutti, quindi non sto a ripeterlo in ogni caso. Per questo questi failure, questi malfunzionamenti, tendiamo a non considerarli molto quando entriamo nel merito del singolo caso d'uso. Perché lì andiamo a vedere le risposte specifiche alle anomalie specifiche che si verificano in quel caso. Nel pensare a cosa può andare storto, dobbiamo sempre ricordarci che lo possiamo descrivere solamente attraverso ciò che vediamo dalla nostra posizione intermedia tra l'utente e il caso d'uso. Quindi io non posso dire che magari il cliente si è dimenticato il ping del suo bancomat. Come faccio a sapere se se lo ricorda o se si è dimenticato? Io l'unica cosa che posso vedere è che o non l'ha inserito nel tempo utile o l'ha inserito sbagliato. Che l'abbia inserito sbagliato per farmi uno scherzo o perché non se lo ricordava proprio non lo so. Fondamentalmente non me ne frega niente. Perché tanto la reazione che devo dare è la stessa. Che non abbia inserito il codice perché è ancora lì che cerca nella borsetta dove l'ha scritto perché non se lo ricorda più. perché proprio non se lo ricorda. Oppure se lo ricorda benissimo ma nel frattempo ho incontrato un amico e si sono messi a chiacchierare e quindi il tempo è passato. Non mi importa. Io devo progettare la risposta al sistema al caso in cui l'utente non inserisca quel dato in tempo utile oppure lo inserisca ma errato. quindi è sempre un'anomalia un'accezione è sempre qualcosa che il sistema rileva e non qualcosa che l'utente ha in testa. Una condizione nel momento in cui viene rilevata dal sistema. E quindi ciò che dice l'ultima frase di questa slide ci dice che se hai motivi diversi malfunzionamenti anomalie diverse che portano allo stesso effetto li devi trattare nello stesso modo. Cioè il fatto che non si ricorda il ping o se lo ricorda sbagliato o mi voleva fare uno scherzo oppure qualcuno ha pigiato il 5 mentre lui scriveva perché lui sì che è simpatico è uguale. Li tratto nello stesso modo perché l'unico effetto che ci sono in grado di rilevare è il ping inserito errato. Quindi questo ci aiuta un pochino perché ci limita all'insieme di casistiche che devo pensare a cui devo pensare. Allora come li descriviamo questi casi? Quindi pensiamo tutto ciò che può andare storto in ogni singolo passo e ovviamente se un passo inizia con l'utente che è il soggetto di un singolo passo è l'utente noi dobbiamo pensare a che cosa potrebbe fare l'utente in alternativa. Se invece il singolo passo è il sistema dobbiamo chiedere quali sono le risposte diverse da quella standard che potrebbe dare il sistema perché in ogni passo ci chiediamo questo. Se troviamo delle condizioni diverse delle eccezioni le elenchiamo con la notazione tipo 2A adesso questo scrive delle regole di notazione questo è un pochino più complesso di quello che poi in pratica dobbiamo usare. Al posto di 2 faccio 2A oppure farò 2B oppure farò 2C sono tutte le alternative possibili al passo 2. Se all'interno delle alternative del passo 2 risolvo la situazione in un solo passaggio ho finito lì. se invece in risposta a un errore devo fare più interazioni le chiamerò 2A punto 1 2A punto 2 2A punto 3 quindi ho una sottosequenza di azioni che nascono dalla anomalia rilevata al punto 2 è complicato da dire parole vediamolo nel nostro esempio punto 1 vabbè questo è il punto di partenza il partecipante decide di inviare una richiesta di unirsi a un team è l'inizio del caso d'uso l'alternativa è che lui chieda un'altra cosa ma allora sarebbe l'inizio di un altro caso duro di questo non ci sono alternative se siamo qui è perché lui ha chiesto quello quindi partiamo dal punto 2 punto 2 allora il sistema predispone un form in cui inserire il nome della persona è possibile che il sistema in questo momento faccia cose diverse è possibile che il sistema in questo momento dia un messaggio di errore dicendo non è possibile inserire il nome di una persona dimentichiamo i guasti fisici no? si rompe il computer va a fuoco tutto ma in condizioni normali quando l'utente inserisce e clicca voglio invitarmi e voglio inserirmi nel team con questa persona il sistema risponde sempre ok inserisci dammi il nome della persona o ci sono dei casi in cui non lo fa tendo conto ricordiamoci che le precondizioni sono verificate quindi se voi mi dite no ma il punto 2A è il sistema risponde che le iscrizioni sono chiuse mi dico no perché se le iscrizioni sono chiuse io non arrivo manco al punto 1 perché è una delle precondizioni altrimenti diventiamo pazzi se andiamo a considerare tutti i casi in cui non posso fare un certo caso duro so che le precondizioni sono verificate date queste precondizioni quindi nello sviluppo dello scenario principale e secondario le precondizioni sono verità non si mettono in discussione sono assiomi lì dentro do per scontato che siano vere punto allora detto ciò a me non viene in mente niente nessuna causa per cui il sistema dovrebbe a un certo punto fare una cosa diversa rispetto al presentarti il formico inserire il nome o a voi viene in mente tu sei convinto vuoi già dire qualcosa prima no si ah se sono il primo non c'è ancora nessuno iscritto questo è un caso un corner case si sicuramente valido quindi vuol dire che non sono l'unico iscritto al il primo che scrive non può farlo gli dice voglio chiedere a qualcuno e il sistema dice che non c'è nessuno aspetta un attimo si quindi 2a è il caso in cui sono l'unico iscritto c'è un solo iscritto giusto quindi prima indico sempre il motivo per cui definisco l'estensione quindi c'è un solo il partecipante è l'unico iscritto allora cosa devo fare cosa fa il sistema allora ce la caviamo su una riga o abbiamo bisogno di più righe beh probabilmente abbiamo bisogno di più righe no basta una scusate in questo caso cosa faccio il sistema segnala l'errore chiedendo all'utente di riprovare più tardi giusto e quindi il caso d'uso termina con fallimento non ho raggiunto l'obiettivo e non lo posso raggiungere perché a meno che inviti me stesso cioè a questo punto non posso andare avanti in questo caso duro devo mandar via l'utente dicendo vai a far altro torna più tardi e quindi questo caso d'uso adesso termina e adesso termina con fallimento perché l'utente non ha raggiunto l'obiettivo grazie per il contributo poi invece siamo nel punto 3 punto 3 vuol dire che il punto 2 è andato a buon fine questa volta ma quindi c'è questa bella casola di testo in cui scriviamo il nome di qualcuno il partecipante inserisce il nome e conferma cosa può andare storto qui? il nome sbagliato no il nome sbagliato non è un'alternativa al punto 3 perché io ciò che vedo io vedo passare un nome vedo che l'utente ha inserito un nome io come osservatore non so se quel nome è sbagliato come osservatore saprò che quel nome è sbagliato se al punto 4 il sistema manderà il messaggio di errore sarà un 4A del tipo il sistema informa che il nome è sbagliato quindi gli errori non li rilevo quando inserisco il dato li rilevo quando il dato ho la risposta cioè quando il dato viene verificato e ho la risposta del sistema quindi è vero che l'utente può inserire un nome sbagliato ma non è un'alternativa al punto 3 il punto 3 è comunque inserire un nome quindi l'unica cosa che può succedere al punto 3 è che il partecipante non inserisca il nome non inserisce dentro un certo tempo oppure inserisce un nome vuoto allora in quel caso devo dire all'utente no, devi inserire un nome torno a chiederlo quindi ho il campo 3A che dice il partecipante partecipante non inserisce un nome giusto o sbagliato che sia non inserisce o non conferma scrive qualcosa e non schiaccia il bottone conferma entro un certo tempo allora cosa deve fare a questo punto il sistema segnala il sistema segnala l'errore all'utente e torna al punto 2 questo caso non è un errore grave che mi fa fallire ti ho detto inserisci un nome tu non me lo inserisci premi conferma senza aver scritto nulla oppure magari scrivi qualcuno ma non premi conferma eccetera passa un minuto o due e dico no senti devi inserire un nome e ritorno al punto 2 ti ripropongo la domanda per favore inserisci il nome fin tanto che tu non lo inserisci stai reciclando tra 2, 3a 2, 3a 2, 3a fino a quando a un certo punto lo inserisci e allora fai 2, 3 il 3 non è qualcosa che capita dopo il 3 è qualcosa che capita invece del 3 quindi dopo il 2 quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 il scenario di successo poi abbiamo un primo scenario di fallimento che è 1, 2a poi abbiamo un altro scenario potenzialmente di successo che è 1, 2, 3a 2, 3, 4, 5, 6 oppure per gli utenti testardi 1, 2, 3a 2, 3a 2, 3a 2, 3a 4, 5, 6 è ancora successo ok ok sul 3 devo dire che non vedo molto altro il 4 invece è più interessante perché se va bene l'utente al punto 3 ha inserito il nome di una persona giusta il nome giusto di una persona e il sistema gli dice guarda questa è la persona che volevi scrivi il messaggio che vuoi mandargli se no cosa può capitare? può capitare che il nome l'hai inserito perché se no ti avrei catturato il punto 3a può capitare che tu hai inserito un nome che non corrisponde a nessuno volgarmente detto un nome sbagliato però magari il nome non è sbagliato in sé è che semplicemente non c'è nessuno iscritto con quel nome e quindi abbiamo il caso 4a in cui il sistema non mostra i dettagli della persona 4a il nome non esiste quindi il sistema non mostra i dettagli della persona bensì segnala l'errore ed invita a riprovare torna al punto 2 dimmi cosa succede allora io quando faccio una ricerca quando inserisco un dato che devi ricercare qualche cosa ho sempre il caso fortunato in cui ciò che ricerco è univoco e ho i due casi sfortunati in cui o non c'è o ce ne sono troppi quindi chiediamoci che cosa succede se a fronte di questo nome inserito dal partecipante ci fossero più iscritti che corrispondono a quel nome allora cosa vuol dire in realtà per rispondere a questa domanda dovremmo chiederci più in dettaglio che cos'è quel nome cioè cosa inserisce lui inserisce il login della persona allora quello dovrebbe essere unico o inserisce Antonio e di Antonio può essere 40 o deve mettere nome e cognome va bene però nome e cognome non sono garanzie di unicità quindi dobbiamo per decidere come gestire quel caso dobbiamo capire un po' meglio se il caso si verifica cioè il nome che l'utente deve inserire a deve essere un nome univoco quindi il nickname della persona se sì ho risolto il problema nel senso che o c'è o non c'è ma se c'è non è doppio o un nome completo nome e cognome però non risolve il problema non mi piace perché tanto complica le cose ma non risolve il problema oppure può essere anche una parte del nome scrivi corno ci sono solo io e viene fuori il mio nome e non devi scrivere per forza nome e cognome per esteso quindi qua però dobbiamo deciderlo io l'utente ha già la conoscenza diciamo del nickname esatto della persona che vuole invitare e quindi ha un dato univoco se sì non c'è un altro caso se no è nel caso in cui di fatto stiamo facendo una sorta di ricerca per sottostringa mette un pezzo del nome e lui ti tira fuori tutti quelli che hanno quel nome o parte di quel nome il nome completo non vuol dire niente dipende da voi se volete gestirlo il nickname non ce l'abbiamo quindi se volessimo dovremmo aggiungerlo perché l'iscritto per ora abbiamo solamente il nome e la mail quindi se volessimo aggiungere un identificatore unico per la piattaforma o mettiamo la mail ma poi va a sapere che mail ha dato quello là quando si è scritto oppure aggiungiamo un campo in più che si può fare se invece volessimo gestire il fatto in cui lui inserisce un nome parziale quindi possono esserci più persone che corrispondono sì c'è un'altra alternativa che è l'alternativa 4b il nome inserito non è univoco a questo punto sì che ci sono dei passaggi in più allora il sistema si accorge che di fronte a quel nome ci sono due iscritti o tre alla piattaforma al blackathon che potrebbero essere le persone a cui questo partecipante è interessato allora abbiamo il sistema antipatico che ti risponde il nome che hai inserito non è univoco riprova c'è ne abbiamo avuti per anni i sistemi che funzionavano così il nostro sistema non è antipatico e quindi anziché semplicemente segnalarmi l'errore mi dovrà dire guarda ci sono tre persone con questi nomi con lo stesso che hanno un nome riconducibile a quello che hai inserito queste sono le persone un, due, tre quale vuoi? no? questa è la cosa che mi sembra più ragionevole e a quel punto l'utente sceglierà cliccando sul primo o sul secondo o sul terzo ok se siamo d'accordo che è così dobbiamo avere due passi che è un passo 4b1 in cui il sistema indica all'utente l'elenco l'elenco dei partecipanti il cui nome corrisponde a quello inserito poi elenco anche la n dentro la parola e 4b 4b2 4b2 qui sono obbligato a usare questa notazione 4b1 4b2 perché nel caso 4b non lo risolvo semplicemente manda un messaggio e torna indietro e quindi lo articolo non è solamente una azione uno step ma lo articolo in più sotto step 4b2 a questo punto l'utente seleziona uno dei nomi indicati elencati usiamo visto che sta fatto un elenco e non un indice allora i nomi sono elencati e non indicati uno dei nomi dell'elenco in elenco a questo punto il sistema continua dal punto al punto come era 4 sì punto 4 cioè finalmente ho risolto l'ambiguità e quindi posso farti vedere i dettagli di quella persona selezionata e quindi permetterci di mandare un messaggio e tanto per farci del male cosa succede se invece l'utente non seleziona uno dei nomi di elenco e gli hai fatto vedere hai fatto la gentilezza di fargli vedere quei tre nomi ma lui è andato a prendersi un caffè perché si è deluso troppo allora possiamo avere un'eccezione all'eccezione questo è un passo come un altro semplicemente quindi potremmo ancora avere per completezza il passo 4b2 a 4b segue il 2 ma se non segue il 2 segue il 2a in alternativa in cui l'utente l'utente non seleziona nulla entra un certo tempo torna al al punto 2 ma andiamo indietro ti ho fatto vedere questi tre non lo puoi allora torniamo indietro e riprovi e quindi direi che il punto 4 l'abbiamo risolto nel senso che 4a se il nome non c'è 4b se il nome ce n'è più di uno altre anomalie non mi vengono in mente a questo punto sono finalmente riuscito a fare il punto 4 quindi ho il nome di una persona vera iscritta non è l'unico iscritto ho scritto il nome giusto eccetera eccetera e quindi ho la videata con i dettagli di questa persona e il campo di testo 5 il partecipante scrive il messaggio di presentazione e conferma visto che il messaggio è un messaggio libero non devo fare nessun controllo su questo e quindi semplicemente lo deve fare l'unica alternativa è che lui non lo faccia quindi come avevamo già messo prima nel punto 2 se lui non lo scrive lo scrive vuoto o non conferma dopo un certo tempo lo sbatto fuori quindi l'unica alternativa è questa 5a che l'unica alternativa che l'utente non inserisce il messaggio o lo inserisce vuoto o non conferma o non conferma entro un certo tempo allora in questo caso il sistema segnala l'errore e torna al punto 4 se non hai scritto niente fai invia lui ti dice no dovevi mettere qualche cosa e ti rimanda alla videata in cui puoi inserire qualcosa qui non ci sono modi di scrivere qualcosa di sbagliato quindi se ho scritto qualcosa va bene e quindi il sistema a questo punto confermerà l'avvenuto il video della richiesta visto che il nome ce l'ho il messaggio ce l'ho e ho finito qui non c'è un 6a o un 6b perché se sono arrivato fino a 6 perché qualcosa è stato scritto se qualcosa è stato scritto qualunque cosa sia va bene esiste ancora un'ultima estensione che cosa capita se poi l'utente proprio se ne va perché io lo riporto al punto 2 lo riporto al punto 4 ma spero che sia sempre lì che continui l'interazione ma se lui a un certo punto chiude e se ne va devo tenere traccia di questo e quindi questo può succedere al punto 3 o al punto 5 quando il partecipante deve fare qualcosa quindi io lo metterei in una forma aggregata o al punto 3 o al punto 5 oppure al 4b2 di tutto questo mettiamo un asterisco perché è una lettera perché non so se era abc potrei mettere z ma qualunque cioè ho fatto l'elenco dei punti in cui l'utente deve fare qualcosa e la condizione è che l'utente abbandona e quindi il caso d'uso termina con fallimento quindi tutti i punti in cui l'utente deve fare qualcosa c'è sempre la possibilità che abbandoni e quindi c'è sempre questa clausola alla fine se ci dimentichiamo poco male perché tanto è quasi scontata però ci dice ci descrive altri modi in cui il caso d'uso può fallire cioè in questo momento per come l'abbiamo descritto il caso d'uso può fallire solamente in due modi o perché c'è un iscritto solo o perché l'utente abbandona in tutti gli altri casi il caso d'uso arriva a successo oppure persevera nelle tentativi come vedete qua siamo a un passo dal disegnare l'interfaccia utente le pagine le videate ma non ci siamo ancora quindi non ho ancora detto sopra sotto alto basso bottone link eccetera ho solamente descritto che quali informazioni ci sono e questo e questo conclude un caso d'uso bisogna mettersi con pazienza a pensare a tutti i vari casi possibili partendo però da un scenario tranquillo va bene io imposterei anche almeno l'inizio di un altro caso d'uso l'altro che abbiamo visto prima perché ha il trigger quindi lo vediamo per quel motivo dove è la riscrizione accetta la richiesta di iscrizione facciamo solo la parte iniziale lo scenario non credo non so se arriveremo a fare lo scenario principale il limite lo riprendiamo velocemente questo è più semplice quindi altro scenario questo l'ho chiamato richiede di unirsi al team ne faccio un altro che si chiama accetta la richiesta di iscrizione use case accetta la richiesta di iscrizione scope è lo stesso formazione dei team livello user goal è lo stesso da qui in avanti da qui in avanti lo vediamo passo passo intention in context quindi qua siamo sempre sul partecipante l'attore primario è sempre un partecipante ma questa volta è il partecipante che fa parte di un team e che ha ricevuto una richiesta di iscrizione ok quindi l'intenzione di questo partecipante in questo caso d'uso è quello di rispondere a questa richiesta nel definire l'intenzione dobbiamo sempre definirla in senso positivo quindi la sua intenzione non è solo di rispondere ma di rispondere positivamente il fatto che risponda negativamente lo vediamo come eccezione quindi il partecipante che ha ricevuto una richiesta questo è il contesto cosa vuole fare? vuole rispondere accettando l'utente nel proprio team l'altro partecipante nel proprio team poi non è che lo voglia sempre lo deve proprio voler dire sempre di sì però visto in senso positivo lo vuole primary actor è sempre un partecipante perché questo partecipante non ha nulla di speciale rispetto all'altro non c'è nessun attore di supporto interesse dei stakeholder è uguale direi fa parte dello stesso processo questo è l'invito dell'accettazione in più secondo me c'è un altro stakeholder che è il partecipante di prima che è interessato a sentirsi dire di sì quindi partecipante che ha fatto la richiesta per poter entrare a far parte del team precondizioni le precondizioni sono al netto di tutto ciò che deriva dal processo il fatto che questo partecipante abbia ricevuto la richiesta quindi partecipante ha almeno una richiesta non riesco a scrivere una scusate ho cercato di far forza su me stesso per scrivere una richiesta ma non riesco almeno una richiesta non posso dire che ne ha esattamente una e se ne ha due può capitare magari non è che tutti le chiedono nello stesso istante però ci sono più richieste e lui le va a vedere tutte con calma stasera quando ha tempo e ne ha più di una e quindi dovremo tenere conto nello scenario se invece non ha nessuna richiesta il bottone accetta non sarà manco attivo e quindi non entro qua in questo processo ok garanzie di successo la richiesta viene accettata garanzie minime ecco le garanzie minime sarebbe bello poterne mettere una che la richiesta qua non scrive in italiano alla richiesta viene fornita una risposta cioè se il successo è ti dico di sì ma in ogni caso qualcosa ti dico o sì o no come minimo quindi nel caso di fallimento cioè ti dico no e quindi è un fallimento comunque la risposta te l'ho data quindi anche in caso di fallimento qualcosa c'è di sicuro ce l'ho trigger questa volta c'è sì e trigger è il fatto che l'utente il partecipante è stato invitato da un altro partecipante invitare è brutto perché lo usiamo per i giudici è richiedere il verbo quindi il partecipante ha una richiesta di unione da parte di un altro partecipante dove unione intendiamo al team ovviamente non altre cose è richiesta di unirsi al team questo è l'evento che fa partire questo caso d'uso allora lo scenario principale di successo è un lampo lo scenario principale di successo è passo 1 attenzione questo caso d'uso è iniziato dal sistema quindi sistema notifica il partecipante chi ha una richiesta quale si chiede il partecipante allora se io il notifico immaginate ad esempio una notifica sul cellulare oppure un messaggio una mail che dice hai una nuova richiesta in questa notifica in questo messaggio domanda che ci facciamo ci sono già tutti i dati per poter decidere sì o no cioè io posso già dire domanda il partecipante accetta oppure devo fare ancora un passaggio intermedio in cui lui va a vedere i dettagli di questa richiesta e poi dopo accetta temo di sì perché se non altro deve leggere il messaggio deve vedere chi gli ha fatto la domanda in una notifica tutta sta roba non ci sta e quindi in mezzo a questo che comunque è il punto d'arrivo a cui vogliamo arrivare c'è il partecipante chiede di vedere i dettagli il sistema semplicemente cliccando sulla notifica o sul link che ti arriva nella mail ma il come dettagliatamente abbiamo detto che lo facciamo quando progetteremo l'interfaccia il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente ed il messaggio di richiesta fornendo offrendo la scelta sì no per accettare a quest'ora l'italiano non è più tanto fluente vuol dire che ti faccio vedere i dati della persona ti faccio vedere il messaggio che hai scritto e poi ti offro la possibilità di dire sì o no saranno due bottoni saranno due link saranno due immagini sarà la faccina che ride quella che piange beh non mi interessa però in questa pagina in cui ci sono queste cose c'è anche questa possibilità di scegliere e lui finalmente accetta terminazione con successo quindi purtroppo i passi 2 o 3 li abbiamo dovuti aggiungere perché ci sono dei dettagli da leggere prima di poter dire sì altrimenti sarebbe stato veramente molto breve ok allora questo è direi pare completo il caso d'uso fino allo scenario principale martedì ci occupiamo delle estensioni che che le il caso è che allo no l'argo d'un ma non è Grazie.